Ultima seduta di Consiglio Provinciale tra A.D. e Arrivederci. L'aula di Corso Garibaldi si è riunita ieri, prima delle nuove elezioni, in programma il 29 settembre con il voto degli amministratori del territorio e si è chiuso così un mandato segnato da un doppio colore politico. Da una parte la presidenza guidata dal centro-sinistra con Monica Patelli, dall'altra il Consiglio con la maggioranza di centrodestra. Non è mancata però la condivisione bipartisan che ha trovato una prova tangibile con l'approvazione ieri del Piano Territoriale di Area Vasta, il PTAV Maxi Documento, chiamato a prendere il posto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che comprende ad esempio paletti specifici sui poli logistici per garantire più ordine e sostenibilità ma anche il tema delle dighe. Il precedente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ne escludeva la possibilità di realizzazione mentre il PTAV la considera un'opzione da valutare. Credo che tutti i consiglieri abbiano dato veramente prova di particolare attaccamento al territorio nella ricerca del bene comune. Quindi ci sono stati sicuramente dei momenti che hanno richiesto degli approfondimenti, dei confronti, quindi anche qualche scontro, però sempre risolti nell'ottica, come dicevo, di lavorare nell'interesse della comunità. Un'ultima seduta in provincia che il consigliere Giampaolo Maloberti ha vissuto con una certa amaretta a fronte della mancata ricandidatura da parte della Lega. Per me è stata un'amara sorpresa ma soprattutto lo ritengo uno sgarbo a quel mondo agricolo, a quel mondo venatorio che hanno sempre visto nel mio operato una difesa dei loro interessi e delle loro legittime aspettative. Neanche Lodovico Albasi, Giulia Monteleone e Armando Piazza sono ricandidati. Tutti gli altri consiglieri uscenti risultano riproposti al seggio, ricoperto, lo ricordiamo, a titolo gratuito. Il Consiglio provinciale inoltre ha approvato l'istituzione di un nuovo indirizzo scolastico nell'Istituto Mattei di Fiorenzuola a partire dall'anno 2025-2026. Si tratta di servizi per la sanità e l'assistenza sociale.